allora amici calciopasso buongiorno con colpevole ritardo vi do la mia analisi di spalle roma perché ieri sera mi ruoteva il culo per altre situazioni per cui non ero proprio dell'umore adatto per fare il video ma la partita chiaramente l'ho vista beh che dire insomma va tutto un po' commisurato alla situazione al contesto a spalle è una squadra che non c'ha più nulla da chiedere il campionato quindi più che altro ieri volevo vedere l'atteggiamento perché poi la roma ad onore del vero ha detto che ci ha dimostrato anche in passato ma proprio nel suo dna ci ha dimostrato che può facilmente perdere la concentrazione anche con squadre destinate alla retrocessione come era famoso lecce dell'86 e e quindi la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo con la roma non a caso comunque qualche mezzo sbarione c'è stato poi fortunatamente finito senza diciamo grossi grosse problematiche però comunque ho visto una roma che in molte molte situazioni ha pressato alto ha rubato palla si è riproposta anche con una certa fluidità continuano a piacermi insomma dei corsi esterni Bruno Perez a parte quella grossa cappella che ha fatto insomma servendo l'attaccante avversario che poi ha accertato il portiere c'è stata la ribattuta de smalling sulla linea ma va detto che comunque sta diventando sta diventando sempre più protagonista che era addirittura autore di una doppietta ma comunque anche una doppietta de qualità soprattutto il secondo gol è molto bello e molto bello anche il gol di di carles peres solido kalinic che comunque timbra il cartellino sta iniziando a timbra il cartellino con una certa regolarità soprattutto sono fuori casa se ha quattro gol due a cagliari una brescia e uno ieri è comunque il bomber di trasferta poi che artesina segna un po tutti non ha come ricordo chiassina kotarov insomma che comunque nonostante diciamo non giochi più avanti come prima perché comunque uno dei tre del pacchetto difensivo che questo in questa soluzione penso che possa allungare la carriera un altro po e comunque ti dà il fatto che i tre centrali perché l'altra è mancini comunque che anche lui ha facoltà di sgancio spesso e volentieri c'hai dei centrali che possono giocare a pallone che possono giocare a calcio e anche bene per cui per cui ben venga questa nuova soluzione assolutamente e niente l'unica cosa è che chiaramente perdi a livello difensivo qualcosa perché ieri si è trovato lui su cerri che chiaramente gli ha mangiato in testa e ha segnato il gol del momentaneo pareggio e poi niente poi c'è zagnolo zagnolo che comunque risponde con un gol clamoroso quasi alla messi ma un po più potente di lui c'è tutto il suo repertorio quel gol perché lo scatto bruciante dribbling in corsa mi ricordava quasi il l'azione che aveva fatto la percussione centrale che aveva fatto con la juventus dove poi si è fatto male quindi c'è la progressione il dribbling la spallata al momento giusto per recuperare il pallone sul contrasto e poi si libera tiro a giro è stupendo quindi niente che chiaramente andrà se poi fonseca giudicherà questo come il modulo da qui al futuro all'anno prossimo e quant'altro io credo che poi andrà un po rivisto il discorso degli esterni perché chiaramente cambia un po tutte e ce ne abbiamo troppi sappiamo insomma che un paio di questi sono stati belli che bocciati e parlo di under e clivert che probabilmente andranno via e l'inserimento poi sarà inserimento di petro quindi comunque ho petro con mkhitaryan con pellegrini che ieri leggermente meglio devo dire ho visto meglio rispetto alle precedenti uscite ha anche propiziato il gol di kalinic e ne prendi un altro perché comunque devi sempre avere un po di scelta ma io penso che con quattro in quei ruoli lì siamo abbastanza coperti poi non dimentichiamo che all'occorrenza c'è anche vere tu che secondo me ci può giocare benissimo e altra buona partita da parte di avarà che un macinino ruba una marea di palloni fa anche dei recuperi importanti come uno nel primo tempo nell'area nostra e de bruno per esso detto zappagosta anche quando è entrato mi è piaciuto però ecco ripeto tutto bello tutti bravi però chiaramente la spalla non è un test probante per stabilire insomma che la roma sia la crisi perché poi che è la quarta vabbè c'è stato diciamo il fermo contro l'inter ma quella è una partita che per come è stata ecco roma inter è una partita che per come è stata interpretata io la ritengo una vittoria anche se poi il risultato non ci sorride ma è stata proprio una cappellata singola quindi secondo me a livello di prestazione corale di occasioni create e quant'altro quella la considera una vittoria per cui diciamo che dopo tre sconfitte consecutive la roma sta progressivamente inannellando ottimi risultati e anche il gioco inizia a migliorare ora chiaramente sappiamo tutti qual è l'obiettivo oggettivamente mi interessa poco se se va in europa league direttamente o se fa i preliminari cambia poco perché poi comunque se c'è una rosa competitiva magari decidi di impiegare le seconde linee nelle prime partite della rova league e poi piano piano fai preparare gli altri insomma non è problema questo quello che a noi ci interessa veramente sono queste quattro partite una corsi via che probabilmente sarà quella più tosta poi dopo chiaramente io spero nel passaggio dei greci perché conosco da vicino per averli seguiti e seguirli tuttora il wolverentone so che è una squadra che comunque già delle cartucce importanti da spararsi e preferirei non trovarmeli contro ecco tutto là perché ci hanno dei due tre elementi veramente di livello importante da top club e niente preferirei evitare insomma però ecco dobbiamo concentrarsi su queste quattro partite perché proprio la formula così come è stata concepita potrebbe paradossalmente favorirci non dico che vinciamo l'europa league però secondo me potremmo andare avanti quasi fino alla finale ma voglio sbilanciare andiamo un finale con l'inter sarebbe bello sarebbe bello viassi un paio di rivincite una contro il manchester united e una contro l'inter in finale sarebbe veramente bello non è nella storia della roma questo anzi nella storia della roma c'è il ripetita per cui facile che prendi invece un'altra bastonata però sai il tifoso è bello perché gli piace sogna e nonostante in questi anni pallotta ci ha svuotato un po di tutto la voglia di sogna ancora resta salda intatta ragazzi vi auguro una buona giornata e sempre caccio paccio